Il titolo del giorno a Piazza Affari è Telecom Italia e già questa è una notizia perché di solito Telecom non sta dando grandi soddisfazioni agli azionisti per oggi il più 4,13 anche con buoni volumi è stato fatto, è il miglior titolo sul Fuzzimib e rappresenta anche il secondo game di fila avevamo fatto un 4,5% in intraday nella seduta di venerdì tradandolo e oggi abbiamo fatto un più 5,09 sempre in intraday per cui quasi un più 9,50% con due operazioni molto veloci e per chi aveva visto il video postato con la panoramica di tutti i titoli presenti sul Fuzzimib sa anche che venerdì avevamo mollato il titolo sui 24,34,24,36 ebbene sono livelli che bene o male ritornano e infatti oggi non a caso siamo andati a ricomprare esattamente quel livello oggi il long scattava tra i 24,36 e 0,24 e 38 per target 0,25 e 60 definita come operazione di breve sul canale premium come potete vedere anche dalla grafica forse intraday e in effetti il titolo oggi ha fatto bene perché è andato a 25,60 per cui nella nostra operazione si chiude praticamente sui massimi vi segnalo che ha fatto un massimo a 0,25 e 69 lì è mancato qualcosa e qualcosa penso sia mancato un po' anche a tutto il Fuzzimib che è partito a strombattuto siamo andati sopra l'area 34.800 punti per quanto riguarda noi per oggi la resistenza era sui 34.770 e se vi aprite un grafico 5 minuti e magari lo facciamo insieme potete notare come quel livello poi sia stato decisamente importante abbiamo combattuto per gran parte della giornata salvo poi chiudere sotto per cui si è un po' spento diciamo il Fuzzimib sul finale e insieme al Fuzzimib si è spenta anche Telecom questo è il grafico 5 minuti e questo è il livello dei 34.770 lo vado a dividenziare vedete come questa mattina siamo partiti forti, siamo tornati sopra abbiamo subito cominciato a lavorare su quel livello vedete quante volte il Fuzzimib è tornato esattamente lì è approvato l'ultimo allungo dopo le 15 ma poi sono prevalsi le vendite per cui area 34.770 oggi regge e nulla da fare nemmeno per Telecom che non riesce a confermarsi sopra il livello per me abbastanza importante appunto di questo massimo che ha segnato se riuscisse a confermarsi sopra i 25.67 0.25.67 avrebbe molte più chance penso di quantomeno arrivare ai 0.26.38 dove in questo momento transita la media mobile, importante media mobile, a 200 sedute e poi ci portiamo anche nella zona di questi minimi sarebbe un pullback ma insomma già qualcosa di buono potrebbe farlo per cui continueremo anche a seguirlo per le prossime sedute e poi chissà che insieme a tutto il Fuzzimib qualcosa in più possa regalare grazie per l'attenzione e alla prossima